ariete le cose più facili saranno anche le più importanti oggi non sottovalutate ciò che in passato avete considerato trascurabile toro non sarete voi a dire l'ultima parola oggi ma di sicuro la vostra opinione sarà tenuta in massima considerazione perciò non perdete nessuna occasione per dire quello che pensate gemelli oggi saprete incoraggiare gli altri a spingersi più avanti di quanto non abbiano mai fatto prima anche voi però potreste compiere molti importanti progressi cancro i risultati che otterrete questa settimana potrebbero essere inferiori alle aspettative provate a capire cosa avete sbagliato e a correggere la rotta leone se saprete combinare le vostre capacità intellettuali con la passione nessuno riuscirà a fermarvi oggi l'unico vostro limite saranno le vostre paure vergine l'istinto vi porterà lontano oggi ma quando sarete prossimi al traguardo fareste bene a usare anche l'esperienza e un po di tecnica bilancia dovrete fare un passo indietro per lasciare che qualcun altro metta in atto indisturbato i suoi piani arriverà anche il vostro momento scorpione potreste dover dire o fare qualcosa di molto difficile oggi cercate di agire contatto e sensibilità in particolare se avrete a che fare con i sentimenti di qualcuno sagittario tutto indica che siate voi i candidati più probabili per una promozione però non fateci troppo affidamento puntate anche su qualche altro obiettivo capricorno siete pronti a fare tutto quello che vi viene chiesto di fare anche di più oggi quello che non potete garantire è l'impossibile acquario oggi potreste non riuscire a concentrarvi su niente probabilmente siete troppo stressati avete bisogno di una vacanza da tutto e da tutti pesci potrete fare affidamento su una persona conosciuta da poco si dimostrerà un alleato più solido e fedele di certi amici di vecchia data